Alessia Marcuzzi incinta, c'è il terzo figlio e gonfiore da stress, foto, l'argomento gravidanze delle VIP interessa sempre molto e dopo tanto tempo torna il gossip su Alessia Marcuzzi incinta, foto. La conduttrice dell'isola dei famosi 2018 è così magra che è difficile anche per i pettegoli più accaniti e attenti trovare l'ombra di un pancino su di lei. Questa volta però il pancino c'è anche se Alessia Marcuzzi non conferma né smentisce la notizia sulla sua dolce attesa tutto il tam tam mediatico prosegue. La simpatica bionda della tv che in questo periodo in tanti crano per come sta dirigendo il canna gate dell'isola dei famosi è in attesa del terzo figlio. O tante difficoltà le hanno solo procurato stress quindi la pancia gonfia? Abbiamo notato tutti martedì sera nella diretta del reality show Il pancino di Alessia. Nonostante il look total black e la sua corporatura esile la pancia non era piatta. Colpa dei pantaloni aderentissimi e della piega che creava il vestito? Il mini dress monospalla scelto sui le jeans di pelle le ha giocato un brutto scherzo, dalla taglia da modella in passerella al pancione e un attimo per il gossip. Quello era un capo vintage, l'aveva già indossato nel 2010 in una puntata del Grande Fratello 11. Beata lei che dopo tanti anni entra ancora in modo perfetto nei vestiti che conserva nell'armadio. Look stiloso e agguerrito ma tra un movimento e l'altro il rigonfiamento si è visto. Il leso si è ammesso in moto commenti e c'è chi già la vede mamma del terzo figlio dopo Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti. Il matrimonio con Paolo Calabresi Marconi procede con immenso amore e in molti già le fanno gli auguri. Altri invece fanno battutine sullo yogurt non preso la mattina a colazione e ovviamente sul gonfiore da stress. Presto ne sapremo di più ma al momento non ci sembra un pancino ma semplicemente una pancia non piattissima. La prima volta non ci sembra un paio alla prossima soltri ma Ciao